Ehi, ciao George! A cosa giochiamo oggi? Io direi di costruire una strada e farci andare le macchine! Ottima idea! E allora cominciamo! Inozauro! Ora mi metto anch'io a lavoro! George, direi che la strada è pronta! È ora di inaugurare la nostra strada! Wow, fantastico! È proprio una strada perfetta! A me sembra noiosa! Ehi, George, cosa c'è che non va? Per correre un rettilineo non è poi così interessante! George, allora io direi di connettere le due parti finali e fare un circuito! Sì, dinotauro! Così va molto meglio! Direi che è arrivato il momento di fare un test! Oh, è molto meglio di prima! Guarda George, possiamo anche cambiare la forma del circuito! Oppure così! Oppure così! Dai cosa penso? Sarebbe bello se ci fossero anche delle salite e delle discese! Non c'è problema! Faremo utilizzo di questi tronchi! Tutto molto bello! Però mi sembra che manca qualcosa! Ho capito, George! Ho qualcosa per te, allora! Wow! In questo circuito possiamo costruire una galleria, un ponte e c'è anche un altro modello di macchina! Wow! Non sto più nella pelle! Voglio giocarci subito! E cominciamo allora! Questa è la nostra galleria! Wow! Che bella strada! Con tante infrastrutture! E ora colleghiamo la nostra strada al ponte! Questa non è un semplice ponte, è un ponte elevatoio! E ora posizioniamo un cancello! La strada è pronta! Proviamo subito il nuovo circuito! George, cosa scegli? La macchina gialla o la macchina rossa? È davvero flessibile! Voglio provare un'altra macchina, quindi scelgo quella gialla! Scusaci macchinina rossa, ma ora giochiamo con quella gialla! Oh no! Questa macchina non può attraversare il ponte! Non c'è problema, è un ponte elevatoio! Le sponde si possono abbassare! Macchinina, non aver paura! Wow! Fantastico! Riccardo, come fa la macchina a passare attraverso il cancello se è chiuso! Non c'è problema, le porte si aprono facilmente! Riccardo, il tunnel è troppo buio! La macchina ha paura! Sicuramente con un po' di compagnia non ci saranno problemi! Macchina rossa, sei stata bravissima! Macchina gialla, andiamo avanti! Wow! La macchina ha attraversato tutte le infrastrutture! Sì, George! È stato davvero divertente! Giorgio, anche l'altro circuito era interessante! Bisogna solo avere un po' di fantasia! Wow, Riccardo! Sensazionale! Giorgio, sono davvero contento che tu ti sia divertito! E a te piace giocare con le macchine? A me piace un sacco! Ciao, ciao!